ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi mi vedete con gli occhi truccati perché sto per fare il test per quanto riguarda il fondotinta oggi andremo a fare il test per quanto riguarda il fondotinta di astra sicuramente non so se vedete prima l'applicazione con tutti i prodotti di astra e tutto comunque siccome sto facendo la rubrica proprio per quanto riguarda il fondotinta ho deciso di farvelo vedere anche così proprio il test di fondotinta se per caso vi serve questa applicazione faremo la stessa cosa delle altre volte quindi applicheremo prima cioè un lato con la spugnetta e un lato con il pennello proprio per vedere l'applicazione direttamente del fondotinta allora iniziamo subito vado a mettere la mia crema su tutto il viso vado a mettere il primer questo qui di astra sempre volevo proprio provare per quanto riguarda il primer tutto parlarvene eccetera eccetera sinceramente diciamo mi sto trovando bene con questo primer certo non è niente di che tipo di così particolare non lo so ovviamente in base alle vostre esigenze non è molto siliconico quindi se a voi non piacciono quei prodotti che hanno del silicone all'interno nel senso che sono troppo perché non mi ricordo se qua c'è base trucco perché l'inci proprio parfa ma c'è parfa ma quindi il profumo allora non lo so in caso vi posso mettere l'inci così non so se riuscirete a vederlo per le ragazze che ci tengono fate un fermo immagine e lo vedete a me sinceramente non non dà fastidio nessuno di queste cose quindi lo utilizzo tranquillamente andiamo utilizzare il fondotinta questo qui di astra io ho preso lo 02 allora già vi posso dire un po il colore tutto questo aspettate prima faccio un lato perché non mi ricordo se ossidava allora da questo lato utilizzerò il pennello di revolution pro il 230 allora come colorazione è buona io mi sono accorta che un pochettino ossidava quindi bisogna ha un profumo mi fa andare indietro nel tempo tipo di pesca non lo so se voi avete sentito lo stesso profumo di pesca di pesca pesca mi copre anche diciamo le occhiaie che non ho perché in quello sono un pochino fortunata almeno in quello allora io di norma prediligo di più i fondotinta che sono un pochettino più liquidi perché avendo 40 anni ho una pelle un pochettino segnata e tutto quindi preferisco utilizzare quelle un po più liquidi che non vanno dentro le pieghette e tutto però devo dire che questo fondotinta c'è perlomeno come prima impressione guardate il lato dove ho il fondotinta e guardate il lato dove non ce l'ho un po di diciamo coprenza un minimo di coprenza lo dà e l'effetto devo dire che non è niente male ovviamente scendiamo anche in questa parte e questo è per quanto riguarda il lato del pennello utilizziamo la spugnetta adesso io da questo lato ne avevo messo una quintalata ne potete mettere anche di meno io mi sono fatta prendere la mano spostiamo i capelli allora di norma a me piace di più l'applicazione con la spugnetta come vi dico per quanto riguarda i prodotti liquidi invece per quanto riguarda questo in particolare devo dirvi proprio in primis che mi piace di più la stesura la stesura con il pennello proprio me lo dico perché l'ho provato ovviamente e quindi vi posso dire questo infatti proprio ci vado col pennello da questo lato perché lo voglio trascinare allora io mi trovo bene con questo fondotinta applicandolo col pennello e poi ci passo la spugnetta tamponando perché la spugnetta è proprio bagnata io una cosa che vi dico per la spugnetta come la utilizzo io io la spugnetta la utilizzo tipo ad esempio è sporca io la lascio così dentro la confezione poi vado tipo che so domani mi devo truccare tipo oggi mi devo truccare allora io lavo la spugnetta infatti è bella cicciottona lavo la spugnetta e la utilizzo quindi non è bagnata ma è molto umida perché ovviamente è stata lavata da poco questo poi cambio lato e sistemo il collo perché ovviamente anche se abbiamo un po' di colore ma non deve essere troppo ritorno con la spugnetta e tampono l'eccesso allora per quanto riguarda la cipria volevo utilizzare quella di di Kiko ha un bel po' che non l'ho utilizzata perché provare sempre tutto di astra utilizzo questa qui che è nella waterflower magic quello con il pack rosa che è questa e gli do un bel po' di cipria perché sinceramente non c'è proprio tutto questo bisogno ha un profumo aspetta non mi ricordo se il pennello l'ho lavato con il bagnoschiuma dei bambini essendo che io vendo prodotti della Kiko dei bambini spesso mi capita che la confezione o è rotta o è invendibile tra virgolette e quindi mi prendo io mi prendo la confezione e la utilizzo e lavo i pennelli allora devo dire che mi piace adesso vado a finire il mio make up e torno subito da voi allora il make up l'ho finito questo è il mio make up realizzato ovviamente vedrete poi il video ve lo linkerò allora che dire per quanto riguarda questo fondotinta posso dirvi che mi piace mi piace la stesura e come vi ho detto poco fa mi piace di più il fatto di metterlo con il pennello prima mi piace l'applicazione col pennello e poi passare la spugnetta perché l'applicazione che ho fatto con la spugnetta non mi piace molto non noto tanta differenza non c'è proprio così tanta differenza però sinceramente mi piace di più l'effetto con il pennello e dopo l'applicazione con la spugnetta sul naso lo vedo lo vedo presente però non so cosa possa diciamo possa essere sinceramente non ve lo so dire comunque mi piace mi piace molto la stesura il colore è quello però si ossida leggermente quindi è un nì nel senso che io lo vedo giusto il colore però alla luce vedo leggermente un piccolo distacco infatti ho dovuto ripassare la spugnetta proprio nel collo per far sì che il prodotto si unifermava con il mio colorito del collo questa è stata un po' la cosa utilizzatelo poco alla volta perché ho visto che oltre che ossida rimane lì dov'è quindi è meglio applicarlo piano piano e sfumarlo bene per quanto riguarda il tutto a me piace piace mi piace molto il prodotto mi piace molto come mi sta sulla mia pelle vi ricordo che questo è lo 0-2 quindi se avete la carnagione uguale alla mia la 0-2 diciamo che potrebbe andare bene considerate che io non sono scura non ho preso abbronzatura non ho preso niente forse un pochettino il colorito è leggermente diverso da gennaio febbraio diciamo così però Supergio è quello niente che dire a me è piaciuto molto mi piace lo continuerò a utilizzare proprio anche in questo periodo e devo dire che per me è promosso è un fondotinta promosso mi dispiace il fatto che è un pochettino più denso avrei preferito leggermente più liquido però per me va benissimo quindi per me è un fondotinta promosso per quanto riguarda questo video è tutto sotto nell'info box io vi metterò i video che già ho fatto per quanto riguarda i fondotinta perché sarà una catena per quanto riguarda queste cose così avete la prova dei fondotinta e soprattutto avete anche le mie gradazioni per quanto riguarda il fondotinta perché spesso possiamo aiutarci anche tramite questi video nel senso se avete il mio stesso colorito se avete anche tipo l'esigenza di avere una pelle matura e tutto quindi diciamo che ci possiamo anche aiutare a vicenda spero che questo video vi sia piaciuto e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.